Cos'è che non va? La lista. Oh, beh, credevo che... Dov'è la lista? La lista, sì, sì, beh, è successo, è successo così. Ero nel negozio e stavo prendendo le uniformi, quando di... Non ti stai spiegando affatto. Arrivò un cane, scappai, avevo una cuffietta, la bambina nel sacco, e Basil mi stava inseguendo. Cosa c'entra, Basil? Che hai combinato, misera bestiaccia? Mio caro vampirello, sei stato appeso a testa in giù, troppo a lungo. Davvero non sei arrabbiato? Sono contento che tu la prendi così bene.